Stefania Cacciola, responsabile Workforce and Organization Investor. Stefania, che cosa fai come practice lead Workforce and Organization? Guarda, Amelia, devi considerare le aziende come degli organismi evidenti e quindi sono continuamente sollecitate sia dal punto di vista esogeno che indogeno a mutamenti. Quello che facciamo per i nostri clienti è intercettare queste sollecitazioni, analizzarle e poi interpretarle per aiutare i clienti insieme a disegnare, a creare il loro percorso evolutivo. Parliamo quindi di modelli organizzativi, parliamo di modelli operativi, parliamo però anche di capability e di processi, quindi più in termini di funzionamento delle aziende e in particolare su questo aspetto, proprio oggi che tutte le aziende capiscono e percepiscono la necessità di mettere le persone al centro, parliamo più che mai di ruoli e di competenze. Grazie alle analisi dello strategy Workforce Planning riusciamo a fotografare quelle che sono le criticità e le urgenze che hanno le aziende in termini di ruoli e di competenze e soprattutto grazie agli strumenti e alle informazioni e benchmark che a Mercer possiamo dare una chiara fotografia del futuro. non c'è mai stato come oggi una grande attenzione, un faro puntato su questa funzione per una questione di priorità aziendali. Oggi le aziende investono sulle risorse e quindi investono sulle risorse umane e nessuna azienda secondo me come Mercer è focalizzata a competenze, a strumenti, a informazioni che possono essere rilevanti. Quindi volevo partecipare in prima linea a questa rivoluzione. Stefania, nel tuo tempo libero quali sono le tue passione con gli obbligi? Emilia, lasciando stare questi ultimi due anni chiaramente ci hanno visto nelle mure casalinghe, ma che d'altra parte mi hanno regalato la possibilità di stare molto tempo con le mie bambine di 4-5 anni, quindi di vederle crescere, di coccolarle. La mia grande passione è quella dei viaggi. Ho scoperto questa passione da grande grazie al lavoro e la cosa che più mi ha coinvolta e catturata e che mi emoziona di più è poter cogliere l'essenza dei luoghi, delle popolazioni, delle culture nel loro ambiente dove non esiste il concetto di diversità perché lo sperimenti e lo tocchi con mano lì dove sono. E quando torni a casa porti con te un'esperienza che ti aiuta a rimanere più aperta e più disponibile. E non vedo l'ora di farlo con le mie bambine in modo da regalare anche a loro questa emozione.